Aprire il cuore, la mano e la porta. È l'indicazione che Papa Francesco suggerisce ai Vescovi del Mozambico in visita a Delimina. Nel messaggio consegnato ai presuli ricorda la necessità della cura pastorale, soprattutto nei confronti dei sacerdoti, ma anche delle consacrate che si mettono a servizio di tutte le miserie umane. Molte famiglie religiose, ricorda il Papa, si spendono per i bambini abbandonati. L'appello di Francesco è di lavorare nell'unità tra le diocesi, le comunità, i laici, per amare come c'è amato Cristo, andando verso le periferie esistenziali dove c'è sofferenza e solitudine. Camminare insieme con il popolo di Dio, assisterlo nei momenti più difficili, come avvenuto in passato con le catastrofi naturali che hanno colpito il Mozambico. Condividerne così il dolore e i problemi. Promuovere poi la formazione dei giovani per combattere le diseguaglianze sociali e le divisioni causate dai conflitti che hanno distrutto le famiglie e il futuro dei ragazzi. Da qui l'invito ad unire il compito educativo con l'annuncio del Vangelo. Francesco infine esorta a collaborare con il governo locale senza risparmiare sforzi in difesa della vita e della famiglia.